Le fiamme gialle al porto di Salerno, in collaborazione con la Dogana, hanno proceduto con il sequestro di numerosi e pregiati manufatti d'arte in avorio africano e asiatico, pelli e oggetti di pitone, coccodrillo e varano, rarissimi coralli e conchiglie e un'anfora di tradizione fenicio-punica, oltre a 20 kg di sigarette di contrabbando. Il carico era nascosto in un container proveniente dall'Eritrea, dichiarato in Dogana come contenente effetti personali da due cittadini di ritorno dall'Africa, denunciati a piede libero. Importante il ritrovamento dell'anfora, databile tra il V e il III secolo a.C., recuperato a quelle latitudini molto probabilmente durante un'operazione subacquea. L'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno ha portato alla denuncia di due italiani. L'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno